Madonna Consolazione La chiesa impressiona con le sue innovazioni architettoniche esterne ed interne, mentre unico nell'architettura ecclesiastica è il modo di sostenere la cupola centrale. Dove è conservato il mosaico del Pantocratore. Si tratta di un esempio unico di architettura sacra bizantina in tutto il mondo cristiano ortodosso. I molteplici danni hanno contribuito alla perdita nella chiesa di una gran parte dell'antico splendore interno, pur mantenendo la sua imponente maestosità. La chiesa impressiona con le sue innovazioni architettoniche esterne con le sue innovazioni architettoniche esterne con le sue innovazioni architettoniche. La chiesa impressiona con le sue innovazioni architettoniche esterne con le sue innovazioni architettoniche esterne con le sue innovazioni architettoniche.